Il sindaco di Teramo, Gianguido Dalberto, è il nuovo presidente regionale del Lanci Abruzzo. Ad eleggerlo è stata la decima assemblea regionale dell'associazione, riunitasi nella sede della Camera di Commercio Chieti Pescara. L'associazione nazionale Comuni Italiani, senza scopo di lucro, rappresenta gli interessi dei circa 7300 comuni associati della penisola davanti agli organi centrali dello Stato. Alla guida del Lanci Abruzzese, Dalberto succede al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna. Auguro buon lavoro ad Alberto e ringrazio tutti gli amministratori abruzzesi per la bella prova di coesione che hanno dato alla nostra regione, ha dichiarato il segretario regionale del PD, Michele Fina.